ma devi andare dove quando ta quell'acqua esse green porca miseria ma qua che roba immerso nella natura bello bello fresco ah mamma mia mamma che splendore quest'acqua sorgente alpina un lago alpino con la sorgente naturale dentro dicono che sia il più pulito lago d'italia il più pulito e allora devi andare dove che una volta le ferie non si facevano né non si andava in giro da nessuna parte c'era qualche giorno libero andava in montagna c'è il picnic lago e via andare così ti risolve anche tutti i casini degli aeroporti aerei e balle varie e quindi e quindi devi andare dove quando tagli il lago del segrino stai a casa tuo bello tranquillo va che roba